Due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Questa la condanna inflitta, con rito abbreviato dal GUP di Aghezzo, Anna Maria Loperete, a uno studente universitario 21enne, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza all'epoca dei fatti 15enne. L'aggressione contestata sarebbe avvenuta la notte del 15 luglio 2012, durante la Notte Bianca a Sansepolcro. Il PM Alessandra Falcone aveva chiesto una condanna a tre anni e un mese. Stando a quanto è emerso dall'indagine, il giovane si appartò insieme alla quindicenne in un veicolo del paese. La ragazza tornò poi sconvolta dal gruppo di amici con i quali era arrivata la festa. Furono proprio loro ad accompagnarla all'ospedale San Donato di Aghezzo. Gli stessi amici avvisarono poi i genitori e i carabinieri. Lo studente, assistito dall'avvocato e sindaco di Aghezzo Giuseppe Fanfani, si è difeso negando di aver violentato la ragazza. Entrambi sarebbero stati ubriachi e il rapporto sarebbe stato quindi consenziente. Nella condanna il ragazzo ha sofferto di uno sconto di pena per il rito abbreviato, per il riconoscimento delle attenuanti generiche e anche per aver già risarcito il danno.